bene allora io direi abbiamo chiuso insomma la presentazione dei prodotti di questa settimana manca però l'ultima parte che è quella della formazione voi avete accennato al webinar che avete appena fatto insieme ecco ci sono poi dei nuovi momenti di formazioni che sono previsti da qui alla chiusura insomma del primo mese dell'anno sì assolutamente sì allora l'ultimo evento di formazione lo abbiamo il 31 di gennaio 2023 in compagnia di luca stellato poi riprendiamo a bomba subito dal 2 di febbraio quindi stop solo di un giorno con nicola para stefano fantonna ancora il 9 di febbraio il 14 febbraio lo ricordo ci sarà la seconda puntata tra virgolette della nostra formazione alto livello che è un evento fisico che noi insomma abbiamo riorganizzato dopo due anni in torre da noi quindi chi è su milano o chi vuol venire da noi insomma potrà iscriversi è un evento gratuito tra l'altro è il giorno di san valentino insomma se lo volete trascorrere in torre a unicredit con riccardo falcolini è un'alternativa io l'ho ribattezzato così per i certificate lovers bellissimo quindi insomma è un'alternativa un'alternativa cioè magari un pacchetto per una coppia giro su milano visita in torre esatto è un attimo di formazione anche su certificates che magari poi ecco qualcosa se ne ricava e magari un bel regalo una cena in più sai cosa diciamo così chi prende poi un prodotto che magari paga le cedole può utilizzare queste cedole per pagare insomma regalino al compagno alla compagna e diamo diamo questa alternativa va bene va bene bene stefano ecco una un'ultima battuta anche a te in chiusura intanto altro è molto interessante il nome è veramente bello e sembra anche a me essere di 14 braio quindi vediamo di riuscire a venire qui e tu sei un certificate lovers quindi sicuramente ti accettano alla follia alla follia un amore senza confini va bene va benissimo allora io vi ringrazio naturalmente ringrazio in collegamento il nostro stefano fanton ringrazio il nostro riccardo falcolini ti lascio la tua attività principale di oggi cioè rispondere alla valanga di messaggi che ci stanno arrivando c'è un telefono che si sta infiammando praticamente devo dire la verità sì ed è bellissimo infatti ringrazio intanto stefano per la gentilezza e ringrazio te per l'ospitalità come sempre la regia per la grande grafica e ringrazio dai lo faccio così mi e mi rubo questo spazio ringrazio tutti per gli auguri perché sempre bellissima ma hai fatto bene hai fatto bene questo anche il tuo spazio quindi insomma ci mancherebbe allora ancora tanti auguri al nostro riccardo falcolini naturalmente io vi ricordo che questa puntata un po speciale di zoom certificates la potete rivedere sul nostro sito e sul nostro canale youtube appuntamento allora al mese di febbraio con tantissime altre novità grazie ancora i nostri ospiti eccoci eccoci abbiamo salutato e quindi ecco si chiude così questo appuntamento con i certificati di investimento ma non alla programmazione di le fonti che continua e allora dopo la pausa pubblicitaria mi raccomando restate sempre in onda con noi